Tortellini alla crema di parmigiano secondo la ricetta di Massimo Bottura. Oggi proviamo a fare la ricetta dei tortellini conditi con la crema di parmigiano e cerco di utilizzare la ricetta che ho visto preparata da Massimo Bottura. Ho avuto la fortuna di mangiare questi tortellini alla Francescana e anche a casa Maria Luigia e devo dire che sono squisiti. Io oggi proverò ad imitarli e se uno li vuole mangiare così buoni, secondo me, bisogna che si mangiano lì. Ad ogni modo io cercherò di fare del mio meglio. I tortellini li avevamo già visti in un altro video, trovate qui in alto il link. Questo è il momento buono per iscriversi al canale, è importante iscriversi al canale per sostenerlo. Iniziamo agli ingredienti. Dunque, beh, ci vogliono i tortellini, questi tortellini li ho presi da un laboratorio di pasta fresca di fiducia che li fa veramente bene. Del parmigiano, della panna, la panna l'ho già messa nel bimbi perché la dovrò portare ad una certa temperatura. In realtà ho usato della panna fresca. È molto importante in questa ricetta avere degli ingredienti top. Questo è un parmigiano 36 mesi, tra l'altro ha un profumo buonissimo, bisogna usare ingredienti di alta qualità. E questa è una panna fresca, panna fresca della Centrale del Latte di Milano. È importante avere ingredienti buoni. Naturalmente del brodo e sto utilizzando del brodo di gallina. Qui ci può andare benissimo anche del brodo di cappone. Io cucinerò i tortellini nel brodo. Allora, ho portato la panna a 75 gradi e aggiungo il parmigiano. Qui le dosi, diciamo che quasi uguale tra panna e parmigiano, però bisogna un po' regolarsi a occhio. Qualche volta io metto metà panna e metà brodo di cappone. Quando il brodo di gallina o di cappone, più il brodo è buono e più ci metto del brodo. Però oggi facciamo panna e parmigiano e basta. Si può fare anche su una padellina. Non è necessario farlo col bimbi. Col bimbi siamo più tranquilli perché ci controlla la temperatura. A questo punto possiamo cominciare ad abbassarla un po' per evitare che nel formaggio si separino le proteine e poi diventa mozzarella. Sto facendo una bella cremina, ancora un po'. Questa crema che sto facendo è eccessiva per quei tortellini, ma qui siamo in tanti e ho paura che dopo mi toccherà cucinare per altre persone. Quindi servirà anche per gli altri. Questa crema qui è pazzesca anche per farci la lasagna. A posto della besciamella. Bene, la crema sta venendo proprio bene. Ecco qua. Ottimo. I tortellini stanno a questo punto. Posso buttarli. Ci metteranno un paio di minuti. Ecco qua. Qui mettiamo 60. Ora la crema è praticamente pronta. Questo è il momento di farla andare. Profumo, meraviglia. I tortellini vanno. Ancora un minuto. Allora, li scoliamo. Pronti. Direi che sono perfetti. Ecco qua. E a questo punto pronti per condirli. Questa è una bellissima salsina con panna e parmigiano. Questa la teniamo per i prossimi. Ecco qui. Pronti per impiattare. A questo punto procediamo all'assaggio. E non sono da solo. Beh, io sai che quando chiami arrivo. Quindi. Questo è un piatto che tu dovresti conoscere. Ma dovrei conoscere abbastanza bene. Se anch'io ho avuto la fortuna, come te, di assaggiarlo in Francescana dal celebre rimo Massimo Bottura. Bene. Quindi è uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Quindi non poterlo. Ai 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 ai. Io spero di non deludere. Io ricordo bene bene il gusto del tortellino del maestro. Quindi vediamo se lo raggiungi. Non dico neanche se lo superi. Hai notato? Ho detto se lo raggiungi. Basta andarci in vicino. Vicino? È già tanto, no? Devo dire. Allora, ho usato panna e parmigiano. Sì. La crema è venuta bene. Devo dire. Qualche volta io ci metto il brodo. Faccio metà panna e metà brodo. Però, devo dire, è talmente buona questa roba qui. Io adesso... Potrei camminare sulle acque. Questi sono veramente da fuori di testa. Mamma che buoni. Buoni. C'è poco da fare. Mamma, ma non possono non piacere. Cioè, questi devono piacere a tutti. Devo dire, qui il parmigiano è la qualità. Che parmigiano hanno usato? Ho usato un 36 mesi. Buono. Tortellini, come sono venuti su, li ho tirati fuori. Certo. Questi non li ho fatti io, questa volta. Non sono male. No, no? Non sono male. Vanno bene. Devo dire che non sono male. Però veramente strepitoso il gusto. Mi piacciono anche il brodo. Assolutamente. Mi piace, però, quando mi piace così. Questa roba. Raga, difficile, eh? Buoni, sono molto buoni. Bravo, Razio. Sei sempre il numero uno, eh? Questi sono difficili da non finire. È vero. È vero. Ogni volta che mi inviti finiamo tutto, ma non è che siamo noi golosi, è che sono buoni. Sono buoni, diciamo che sono buoni. Diciamo che non dobbiamo fare finta, ecco. Anche perché così, con questo sistema, la crema non la puoi sbagliare. Certo. Perché chiaramente il bimbi ti dà la possibilità di controllare la temperatura. Lo puoi fare anche con la padella. Devi stare un po' più attento. Devi stare un po' più attento. Ecco, devi stare un po' più attento. Non devi fare bollire la panna perché se poi si alza troppo la temperatura, il formaggio, dopo aver fuso, si separa dalle portelline. Cioè l'acqua si separa dalle portelline e diventa un pasticcio. Beh, Orazio, quindi parlando di questi tortellini, cosa ci berresti? Perché è un piatto così gudurioso che... Allora, non è semplice. Non è semplice perché c'è la carne, ci sono... E poi c'è questa crema di pernigiano che è molto intensa. Esatto. Allora, io qui faccio una cosa un po' fuori e poi è dolce. Esatto. Viene fuori un sapore, alla fine il sapore prevalente è umani questo. Certo, potrebbe essere quasi un dessert. Anzi, questo è un'esplosione di umami. E quindi, secondo me, ci va qualcosa che possa contrastare o che vada bene con questo sapore. E guarda, io ci prenderei dell'ambrusco. Oh, così che stiamo anche... E quasi anche con l'ambrusco, che è non solo frizzante, ma anche con un po' di residuo zuccherino. Mi piacerebbe sentirlo leggermente addolcito. Non voglio dire che sia... E guarda, ti dirò di più. Su un piatto come questo, che è bianco, qualcuno... Sai, una delle teorie è che il vino deve... Beh, allora, se ci devo mettere un vino bianco, io ci metterei un'albana dolce. Così siamo... Rimaniamo nel territorio. Però... Rimaniamo nel territorio. E i vini dolci, che noi non beviamo più, o li beviamo solamente col dolce, secondo me hanno delle possibilità di accostamento meravigliose anche con altri piatti. Guarda, o un lambrusco o un'albana dolce. Sono d'accordo con te. Ricordo uno dei tuoi celebre abbinamenti, pollo e sotern. Beh, questo non è mio, è del signor Rosalusso. Ok, però tu l'hai sdoganato per noi comuni mortali, no? Sì, sì, davanti. Iscrivetevi alla mia newsletter domenicale e iscrivetevi al canale. E ricordatevi di attivare la campanella. Così siete avvertiti dei video che sono appena usciti. Tutti gli ingredienti e le attrezzature che ho utilizzato le trovate in descrizione. Ciao e alla prossima!